buongiorno a tutti oggi vi presento questo libro per non morire il modo di vivere sano con le bevande al limone scritto da alberto castanieri un testo auto pubblicato presente nelle principali piattaforme di vendita online e di che cosa parla questo testo del limone un frutto un agrume dalle proprietà benefiche ricco di vitamina c si parte quindi con un po di storia che sicuramente voi non conoscete per arrivare a una serie di ricette realizzate con il limone dissetanti depuranti dimagranti e soprattutto se volete essere belle quest'estate superare la prova costume mi raccomando che state il libro ciao e alla prossima ciao